Vince per il settore technology il professionista Francesca Gaudino dello studio Becker McKenzie Facciamo la foto di rito e sentiamo le motivazioni Per la giuria è rigorosa e precisa ma soprattutto in grado di comprendere le esigenze del cliente e così fornire soluzioni pratiche su misura assistito a Moncler in un ambizioso progetto per la gestione delle attività di CRM Mi incuriosisce lo sfondo che ha alle spalle, molto tecnologico È uno sfondo precostituito diciamo e basta metterlo praticamente su Zoom come virtual background Cosa ne pensa di questo premio? Prima di tutto volevo ringraziare Top Legal, la giuria ma soprattutto il mio gruppo di lavoro che è il vero vincitore del premio un gruppo di professionisti giovani, ispirati e dedicati Grazie mille 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 Grazie mille